orandum est il pensiero dei grandi di vb roberta fece la domanda giovenale nelle satire dice che orandum est ut sit mens sana in corpore sano prega di avere mente sana in un corpo sano allora se io non ho un corpo sano non ho nemmeno una mente sana io credo che giovenale invece di mente doveva dire coscienza disse giulio allora è la coscienza che preserva dalle malattie non è la coscienza ma è la coscienza costituita che preserva dalle malattie perché è vero che la mente controlla il corpo ma è anche vero che la mente riceve ordini dalla coscienza e quindi è la coscienza che in ultima analisi deve essere sana cioè costituita grazie a tutti Grazie a tutti